Musica 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 Spero che questo sia un inizio di un filotto di vittorie perché la squadra ci sta, è un bel gruppo, possiamo arrivare in alto, ci possiamo divertire, c'è un po' di esperienza tra di noi, ragazzi giovani che adesso stanno iniziando, però si è formato, non dico una famiglia ma siamo a buon punto. L'arbitro ha condizionato la partita specialmente sul 3-2, ha interpretato una regola a modo suo e abbiamo subito la rete del 3-2 e da qui in poi non c'è stata più partita perché la reazione nostra era scriteriata e poi secondo noi è stata condizionata dall'arbitro questa partita. Grazie